Le religioni naturali Nella religione naturale, l'uomo, nelle forze della natura, scorge la presenza della divinità, di qualcuno che è superiore a lui. Attraverso la bellezza della natura, nel suo inarrestabile susseguirsi di stagioni, nella meraviglia di fronte al rinnovarsi della vita, ma anche nel suo spettacolo di potenza al quale spesso l'uomo fatica a dare una spiegazione, vede il segno di un'esistenza misteriosa. Il sorgere del sole e il suo tramontare che lascia spazio alle tenebre, lo scatenarsi dei temporali, le eruzioni vulcaniche, l'immensità del mare, eccetera, vengono interpretati come segni di qualcosa di grande che non può essere regolato dall'uomo. Si ha così, nella preistoria, una prima esperienza religiosa, che sarà poi approfondita nelle religioni antiche, essenzialmente legata alla natura e caratterizzata da due aspetti. Uno molto positivo, legato alla vita e allo stupore di fronte alla bellezza. Un secondo più ambiguo, legato alla paura, di fronte a forze che possono fare anche del male alla vita fino a distruggerla. Possiamo così sintetizzare questa prima esperienza religiosa attraverso questo semplice schema. L'uomo, attraverso la natura, scorge la presenza della divinità. Grazie a tutti.